Dottore, dottore, il mio coach mi ha detto di fare questi esami. Ho ho ho, ma chi gliele ha consegnati questi esami? Dopo, Gigio? Buongiorno dottore, io ho usato steroidi in passato e penso di avere il testosterone sotto zero. Lei mi potrebbe aiutare? Arrogo, maledetto dopato! Vai da un endocrinologo e gli dici che ha usato steroidi che ok, sei stato un pirla, ma che adesso vuoi stare bene. Ma lui ti manda subito a casa addirittura minacciando una denuncia. Vuoi affidarti a un coach? Ma questi chiedono troppi soldi. E allora, con questo video gratis, gratuito, vediamo quali sono i parametri più comuni da analizzare per non morire. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista, allenatore e coach. Come sempre, prima di iniziare ricordati che è troppo sbatti, mettere like, cliccare, la campanella, fare, disfare, ma cosa lo fai a fare? Guardati questo bel video che è gratuito e basta. Vai però sul mio sito simonepagnatoni.it a prendere queste fantastiche magliette, riso, pollo, broccoli, maledetti natural, ci sono anche le borse da gym fantastiche, c'è Simo Pagno Coaching, deve essere dappertutto. Seguimi dappertutto su Instagram, Facebook e TikTok. Vieni sul gruppo più anabolico d'Italia, il gruppo Telegram, la Simo Pagno Crew, dove parliamo di bodybuilding, natural e non e tutto quello che ci sta intorno, con dei contest meravigliosi, delle informazioni, dei sondaggi. Ragazzi, ci divertiamo tantissimo. Spacca di brutto il gruppo Telegram. Vieni subito, spacca tantissimo. Ma adesso quello che spacca è questo video. E noi, iniziamo adesso. Allora, il primo valore ematico da far analizzare è il famoso ematocrito, ematos rosso, ok? Quindi si chiama anche la CBC, Complete Blood Count, dove vediamo tanti valori, ma quello più rilevante, oggi andiamo subito al sodo, è l'ematocrito. L'ematocrito è, in parole povere, la quantità di globuli rossi all'interno del sangue, che sappiamo essere composto da una parte corpuscolata, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, da una parte liquida che è il plasma. Plasma che contiene prevalentemente acqua, sale e proteine. Ora, questa parte corpuscolata è mediamente del 45%, qualcosa in meno nelle donne e qualcosa in più negli uomini. Ma il limite, il cutoff di questo ematocrito è il 54%. Capita spesso in chi utilizza testosterone e non solo, c'è anche un composto come l'equiposil boldenone, che ha proprio la caratteristica tipica di elevare l'ematocrito, di averlo magari oltre questo range. Per tanti già 52% è tanto, però il cutoff ad oggi è 54%. E allora, ti ritrovi con un ematocrito troppo elevato, quali possono essere i problemi? Numero uno, bevi di più la disidratazione. Numero due, magari stai prendendo, come il 50% delle persone, dati statistici, integratori un po' a caso, specialmente quelli a base di ferro. Carenza di fibre, semplicemente frutta e verdura, ma possiamo trovarli altrettanto facilmente, nei cereali integrali. Uso e abuso di farmaci. Anche lì i farmaci presi a caso, ho un po' di mal di testa e giù di aspirina, tachipirina e chi più ne ha più ne metta. E cerca di mangiare pompelmo. Perché? Molto probabilmente la motivazione per cui il pompelmo abbassa l'ematocrito è dovuta alla naringina, che aiuta ad eliminare più facilmente i globuli rossi vecchi, che hanno una vita, un ciclo cellulare di circa 120 giorni, per cui al 121esimo giorno i globuli rossi devono morire. Se li vedi in mezzo alla strada che stanno attraversando anche sulle strisce, non devi frenare ma devi accelerare, mi raccomando. No, scherzo, che poi magari qualcuno lo fa davvero. Scherzo. Ok, quindi eliminiamo che i globuli rossi vecchi, si abbassa l'ematocrito, e diventiamo anche più efficienti nel trasporto dell'ossigeno. E non solo. Altri alimenti utili possono essere i broccoli, i mirtili, le fragole, gli spinaci e le carote, per via di altri flavonoidi, chiaramente, ma soprattutto per il contenuto di vitamina C ad effetto antiossidante. Quindi prova a cambiare la tua dieta per due o tre mesi e fare un nuovo test. Andiamo ad un altro parametro che è molto rilevante, ossia i sali minerali. Ma quali sali minerali far analizzare e perché? Chiaramente quelli più famosi, quelli che espelliamo con il sudore, se un pagno coaching ne è pieno ovunque, un pezzatore unico. I più importanti sono questi cinque, quindi in ordine anche di quantità, il sodio, che regola chiaramente la pressione sanguigna, il cloro, che fa più o meno la stessa cosa, potassio e magnesio, con le loro 150.000 funzioni, prevalentemente il potassio anche di protezione cardiaca, proprio del ritmo cardiaco, quindi un'ipocalemia, ad esempio, carenza di potassio, può provocare aritmie, quindi disfunzioni del ritmo cardiaco, e il calcio. Come ci accorgiamo se i nostri sali minerali non sono ben regolati? Semplicissimo. Degli scompensi possono arrivare, chiaramente, dopo aver avuto magari il vomito, a seguito magari di un'infezione. La diarrea, una dieta non troppo regolare, ma il primo sintomo, la stanchezza, ti senti stanco. Molto spesso questa viene regolata con un giusto bilancio elettrolitico. Gli elettroliti sono i sali minerali. Tante volte, quando si sente parlare di squilibrio elettrolitico, vuol dire che magari abbiamo poco sodio, poco potassio, troppo magnesio, troppo magnesio è difficile, però squilibrio elettrolitico. E molte volte la soluzione, soprattutto anche più giovane, perché noi consigliamo sempre diete iposodiche, per non innalzare la pressione sanguigna, perché sappiamo che l'ipertensione è il killer numero uno al mondo. Troppe, troppe patologie dipendono dall'ipertensione. In primis la terosclerosi, che poi può portare a conseguenze come infarto, ictus e tante altre, purtroppo, spiacevoli situazioni. Ma, molto spesso, in un soggetto giovane e sano, il sale può essere la soluzione. Per capire questo, prova a misurarti la pressione. Se è bassa, probabilmente, non stai assumendo abbastanza sale. Adesso andiamo un po' per organi. E arriviamo a papà fegato, che fa un sacco di funzioni, dalla produzione, chiaramente, delle famose proteine plasmatiche, proteine epatiche, agli enzimi epatici, chiaramente a produzione di bile, di colesterolo, tantissimo. Il fegato fa tantissime cose. Quando c'è una funzione corporea, metabolica, che dici, caspita, ma chi la farà? 9 su 10 è il fegato. Gli enzimi da controllare sono prevalentemente due, anche se poi ne vedremo altri. le AST, ossia, aspartato, aminotransferasi, dette anche GOT, GOT, glutammato, ossalacetato, trasferasi. E attenzione, perché questi enzimi riguardano i muscoli striati, che sono i muscoli scheletrici e il cuore, ok? Tutti gli altri muscoli sono lisci. Enzima numero 2, ALT, alanina, aminotransferasi, o GPT, glutammato, piruvato, trasferasi, che riguarda, prettamente, il fegato, e questo è da sapere. intanto perché spesso la vitamina D può attenuare l'elevazione di questi enzimi, quindi molte volte questi enzimi sono un po' alti perché la vitamina D è tanto bassa. Se non stai integrando con la vitamina D, ti consiglio di far analizzare perché, molto spesso, per la mia esperienza, ma ci sono anche dati statistici ben chiari, in Italia siamo spesso carenti di questa vitamina. I valori di questi enzimi iniziano ad essere preoccupanti quando superano di circa tre volte i valori normali. Quindi se sono un pochettino oltre la soglia non ti preoccupare. In più, il danno muscolare, che sia una lesione vera e propria, un infortunio o una serie di sbatti che facciamo fare al nostro organismo quando andiamo a pompare in palestra, tendono ad elevare questi enzimi, nello specifico, le AST, aspartato, aminotransferasi. Quindi se hai le AST un po' più alte, è normale se ti alleni in palestra, ma anche se fai qualsiasi altro sport. Nello sportivo avere le AST elevate, anche più alte delle ALT, è normalissimo perché dipendono dal muscolo striato. E allora, oltre a non esserci nulla di cui preoccuparsi generalmente, dobbiamo anche dire che spesso questi enzimi possono essere alti anche per una carenza di vitamina B1 presente nel salmone, in tantissimi altri pesci, legumi come fagioli e piselli, ma anche nei semi di lino e nel riso integrale. La B6 presente sempre nel salmone, salmone ce l'ha tutte, petto di pollo, banane, tofu, patate, patate dolci tanto anche, avocado e nei pistacchi. Dobbiamo poi citare anche la ALP, la fosfatasi alcalina, e la GGT detta gamma GT, gamma glutamiltransferasi. Sono altri due enzimi epatici abbastanza rilevanti. Non si fanno analizzare sempre come STLT, ma hanno anche loro la loro importanza. Che insieme appunto alla bilirubinemia, la quantità di bilirubina diretta e indiretta, possono essere dei parametri da far controllare. Diciamo, un po' meno rilevanti. Perché sono un po' più specifici insieme alla proteina plasmatica epatica numero 1, che è l'albumina, la proteina plasmatica più presente nel sangue, nel plasma, più precisamente. Da considerare poi anche il tempo di protrombina, che valuta alcuni fattori della coagulazione, che sono appunto epatodipendenti, dipendono dal fegato. Da non confondere però con il tempo di tromboplastina parziale, quello è diverso. O addirittura tempo di tromboplastina parziale attivato, APTT, che è uno screening volto ad indagare la capacità del paziente di formare regolarmente dei coaguli di sangue. Poi c'è la PCR, proteina C-reattiva, che valuta lo stato di infiammazione. L'infiammazione che abbiamo detto ci serve, ci serve l'infiammazione per sopravvivere. Ma diventa uno sbatti se questa è cronica. L'infiammazione utile in acuto sbatti in cronico. Utile in acuto sbatti in cronico. Sicuramente l'infiammazione può essere abbassata con la dieta, l'esercizio fisico e lo stile di vita. La perdita di peso, se sei in sovrappeso. Altrimenti possono aiutare altre sostanze, vitamine che mitigano un pochino l'infiammazione come la B1, la B6 e anche la B3 e la niacina detta vitamina PP per l'agra prevention presente anche nel PP nel petto di pollo. Ma specialmente la curcumina. E mi sa che ci abbiamo fatto un video. Ma attenzione, è importantissimo perché uno studio del 2021 ha riportato che indossare le magliette di Simo Pagno Coaching abbassa del 2000 per 1000 l'infiammazione sia cronica che acuta. Pazzesco! E ti fa diventare decisamente più grosso. Oh yeah! Aumenta la massa muscolare a dismisura così come quella del pene. Già! chiaramente bisogna analizzare i nostri livelli di testosterone omini ometti uomini testosterone totale e libero poi si può fare anche quello biodisponibile ma quelli che ci servono un po' di più andiamo al soda oggi eh che è già troppo lungo questo video testosterone totale e testosterone libero ok? Per vedere poi effettivamente quanto riusciamo ad utilizzarne. Su questo una bagianata che sento spesso allora se hai il testosterone alto te ne basta poco se vuoi prendere testosterone esogeno per ottenere risultati eh questa bagianata da palestra se hai il testosterone basso invece devi prendere tanto perché il testosterone è basso sì se vuoi arrivare a un certo livello di testosterone è ovvio voglio arrivare a 1000 nanogrammi su decilitro bene se sono 800 me ne servirà di meno se sono a 300 me ne servirà di più è matematica certo ma in realtà a noi dei livelli di testosterone ci interessa tantissimo ma per la composizione corporea per stare bene è importante che tu porti su questi valori ok? quindi per esempio se io do una dose standard di testosterone a due soggetti uno ha il testosterone basso uno ha il testosterone alto secondo voi chi lo sente di più quindi chi ha il testosterone basso sentirà di più giusto perché quella dose glielo alza magari del 50 del 100% glielo raddoppia addirittura il testosterone invece quello che ce l'ha più alto magari subirà un aumento del 10 del 20% quindi potrebbe anche essere addirittura impercettibile quella dose quindi è esattamente il contrario per sentire dei benefici una persona che ha il testosterone basso ha bisogno di pochissimo se hai il testosterone a zero una gocciolina fa già qualcosa se hai fiumi di testosterone in corpo una gocciolina non ti fa niente ci siamo su questo importantissimo qua vediamo livelli mostruosi di testosterone libero e anche di testosterone totale qui probabilmente qualcuno ne ha usato un po' troppo e attenzione altra bagianata che sento ha 500 nanogrammi su decilitro è poco dove? secondo quali canoni? e sai 7800 è buono 7800 è tanto 7800 è molto buono quindi abbiamo tutti i valori per le varie età e diciamo che stare intorno ai 400 466 qua ce lo dà come media chiaramente se sei più giovane magari stai più verso i 500 se andiamo già dopo i 40 anni già un 400 va bene ai 350 non stai morendo ai 300 non è tanto ma va bene ai 200 magari potresti usufruire di questo aiuto della TRT testosterone replacement therapy e ne abbiamo parlato in più video ma in uno particolare DHT di idrotestosterone sappiamo che il testosterone viene convertito da questi enzimi 5 alfa reduttasi in di idrotestosterone DHT che cosa fa? allora bassi livelli di DHT sono associati ad una riduzione abbastanza importante della libido distrugge la libido la voglia di riprodursi alti livelli però possono causare la caduta dei capelli soprattutto in soggetti predisposti mi permetto di dire solo in soggetti predisposti può il DHT causare anche acne anche qui in base alla predisposizione genetica ma questo generalmente causa un aumento dell'acne un po' in tutte le persone chiaramente lo stile di vita attivo quindi attività fisica una dieta sana sono ovviamente indicati perché sono i fattori più fortemente correlati a una mancanza di libido insieme all'obesità dobbiamo fare però attenzione anche ad una carenza di zinco e all'utilizzo di antidepressivi come gli SSRI ossia selective serotonin reuptake inhibitors ossia inibitori selettivi della reuptake di serotonina quindi evitano che la serotonina sia ripresa reuptake e quindi rimane in circolo quindi tu wow ormone della felicità la serotonina è un po' più felice poi c'è chi dice che questi SSRI distruggono le persone io personalmente se sono farmaci e si utilizzano è perché salvano le persone le aiutano distruggono chi li prende a caso chi prende magari integratori o addirittura farmaci completamente a caso perché puoi ritrovare l'equilibrio senza questi farmaci è un po' difficile soprattutto se fai le cose a caso da solo se vai da un medico che ti guida ti aiuta non ci sono problemi altro ormone da far controllare specialmente se hai preso o vuoi prenderli non prenderli eh steroidi è l'estradiolo o estradiolo che dir si voglia beta 17 estradiolo perché sono questi estrogeni estrone one uno estradiolo due estrione tre uno due tre in ordine con un po' più famoso è l'estradiolo e anche qui viene sempre convertito da papà testosterone tramite degli enzimi che si chiamano aromatasi quindi arriva il testosterone ciao incontra l'aromatasi che bello si amano ed esce fuori l'estradiolo quindi se hai un alto testosterone di conseguenza avrai un alto DHT come avevo visto prima e un alto estradiolo alti livelli di estradiolo non un alto estradiolo che italiano è anche qui se hai livelli troppo bassi avrai la libido sotto le scarpe estradiolo poi è un effetto cardioprotettivo e anche lubrificante per le articolazioni aumenta la produzione di liquido sinoviale in realtà aumenta proprio la quantità di liquido articolato alti livelli di estradiolo però sappiamo essere la paura numero uno nel bodybuilding perché ti arriva la ginecomastia le tettine ma sappiamo che quasi tutti i bodybuilder professionisti un interventino di rimozione della ghiandola l'hanno fatto quindi prima o poi ci passano tutti la prolattina prolattina a favore del latte della lattazione un ormone che appunto viene prodotto per produrre il latte l'ormone sempre prodotto dall'adene ipofisi PRL prolattina che quindi va a stimolare la secrezione di latte perché la prolattina è importante perché la prolattina si può elevare quando altre persone cattive prendono i famosi 19 nor che sono un'altra categoria di steroidi anabolizzanti androgeni come ad esempio il famoso trembolone ma anche il nandrolone deca durabolin o NPP nandrolone fenilpropionato quindi il deca è il nandrolone lento l'NPP è quello veloce e poi c'è anche il ment e tanti altri meno famosi che non stiamo qui a discutere ment o trestolone ne parleremo in un video poi del ment che tanti dicono che distrugge tutto altri che è bellissimo insomma parliamo attenzione perché la prolattina può elevarsi in risposta allo stress basta non dormire o dormire poco o dormire male per due o tre notti prolattina alle stelle la prolattina si eleva anche a seguito della masturbazione e in soggetti che si masturbano un po' troppo spesso massimo cosa vuol dire troppo spesso dipende se non ti masturbi mai e ti masturbi tre volte nei prossimi tre giorni hai già un'elevazione della prolattina interessante se ti masturbi tutti i giorni la prolattina è alta di base ma poi trovi col tempo un equilibrio ok quindi è legata appunto a questo stress in acuto anche alla masturbazione attenzione perché si eleva la prolattina anche in caso di utilizzo di droghe ricreative come il THC tetraidrocannabinolo eh farsi le canne zio quello e in caso abbiamo avuto di eccessiva masturbazione per allenare gli avambracci come faceva l'iprist eh poi arriviamo a un ormone che non sempre viene fatto analizzare il cortisolo ormone dello stress per eccellenza prodotto dalle ghiandole surrenali dalla corteccia delle ghiandole surrenali dalla parte corticale abbiamo tre zone gfr glomerulosa fascicolata reticolare quindi situazioni stressanti prevalentemente anche qui legate al sonno possono innalzare questo ormone ma ricordiamo che è l'ormone dello stress è da tenere sotto controllo noi non possiamo tenere lo stress sotto controllo ma il cortisolo sì almeno con gli esami del sangue tu che è il cortisolo alto rilassati no stress è la prima cosa cerca di dare priorità al sonno e alle cose che ti fanno stare bene e sai non riesco ad andare in palestra perché no togli il resto se puoi ovviamente se puoi per carità sono il primo a correre dietro al lavoro ma quando ti rendi conto che sei troppo stressato o magari fai anche un esamino del sangue e hai il cortisolo a 30 che è elevatissimo allora capisci che è un momento in cui devi pensare a te stesso e a rilassarti poi per il rene abbiamo la cistatina C la EGFR quindi la filtrazione glomerulare stimata estimated e la creatinina perché perché la creatinina si eleva in una dieta iperproteica se prendi la creatina come integratore se fai esercizio fisico quindi dipende da troppi fattori che influiscono su questo marker invece la cistatina C è un po' più precisa e ripeto direttamente correlata alla GFR anche persone con massa muscolare elevata hanno un'alta creatininemia quantità di creatinina nel sangue quindi la cistatina C non è influenzata dalla massa muscolare dall'esercizio fisico dalla quantità di proteine presenti nella dieta e dall'integrazione di creatina che tutti noi maledetti natural facciamo anche qualche non naturale è giusto che la faccia fa sempre bene la creatina non vedo motivo per non integrarla sinceramente salvo condizioni particolari attenzione una GFR EGFR estimated GFR glomerular filtration rate inferiore a 60 può indicare qualche problema renale che la creatinina è proporzionale alla massa muscolare quindi ho tanta massa muscolare o più alta creatinina non vuol dire che ho i reni appunto valori di riferimento della cistatina C tra 0,56 e 0,99 un altro parametro è l'urea ciclo dell'urea fatto sempre dal fegato che poi non andiamo a spellere chiaramente con l'urina dipende l'urea dai metaboliti dell'azoto quindi tutti i composti azotati vanno poi nell'urea quindi una dieta alta in proteine aumenta l'urea anche qui alta massa muscolare anche con l'esercizio fisico chiaramente la creatina insomma se sei un bodybuilder ci sta che tu abbia l'urea alta se stai a 2 grammi di proteine al giorno è un po' più alta ma non per questo vuol dire che tu stia male altro fattore che influisce tantissimo sulla produzione di urea è l'età e gli uomini ne producono un po' di più delle donne quindi l'età e il quantitativo di azoto nitrogen che noi assumiamo le proteine quindi anche qui non mi preoccuperei se i tuoi valori di urea sono un pochino più alti del solito urea urea mai capito come si dice tiroide sarò breve tutti fanno analizzare il tsh tyrosimulating hormone quando invece dovremmo sempre valutare sia tsh che ft3 t3 è la triiodiotironina t4 tetraiodiotironina detta anche tiroxina che è il principativo dell'eutiroxil farmaco che si prende in caso di ipotiroidismo cosa succede tsh ormone che stimola la tiroide se il tsh è a posto generalmente gli altri due sono a posto vero ma fino a un certo punto perché ci può essere una mancanza di per esempio iodio che porta a una scarsa conversione del t4 forma inattiva in t3 forma attiva o meglio per meglio dire più attiva in termini metabolici allora che cosa succede io consiglio sempre di far analizzare almeno se non l'hai mai fatto in vita tua una volta fai tsh ft3 ft4 f sta per free libero evviva poi la glicemia la quantità di glucosio nel sangue la quantità di zucchero nel sangue lo zucchero che abbiamo nel sangue è l'unico zucchero che possiamo avere nel sangue è il glucosio perché fruttosi e garattosi vengono convertiti a livello epatico in glucosio questo fantastico zucchero lesoso prodotto dalle piante tramite la fotosintesi clorofiliana ma i livelli di glicemia dovrebbero stare più o meno tra i 70 e i 100 ipoglicemia generalmente sotto i 60 ma quello che ci interessa per glicemia quindi sopra i 100 non va bene qualche laboratorio ci dice sopra i 110 no signori già sopra i 100 non va bene cioè avere regolarmente 104 105 106 107 no non va bene la glicemia va bene quando teniamo sotto i 90 già averla sempre a 95 meglio di no possiamo intervenire per abbassare poi dipende a tantissimi fattori per cui in soggetti che magari ha una glicemia un po' altina tra i 95 e i 100 ma tutto il resto è sotto controllo possiamo capire che magari può essere semplicemente correlata ad altri fattori che non influiscono poi così tanto sulla salute quindi può benissimo non essere un grande problema per sapere questo se un giorno noi ci ritroviamo con la glicemia alta dobbiamo valutare la HB1AC ossia l'emoglobina glicata che ci dà la media di glucosio che è stato presente nel sangue negli ultimi 90 giorni così capiamo se quella glicemia è stata alta solo quella volta o se effettivamente è alta da un po' di tempo valori di emoglobina glicata HB1C normali sono quelli inferiori al 5,7% tra 5,7 e 6,4 abbiamo soggetti prediabetici mentre il diabete può essere diagnosticato con livelli superiori ai 6,5 ultima finestra sui trigliceridi il colesterolo HDL e LDL allora sappiamo che HDL high density lipoprotein colesterolo buono sono delle lipoproteine in realtà non è proprio il colesterolo buono lipoproteine che portano il colesterolo dai vasi sanguigni al fegato le LDL fanno il contrario trigliceridi la quantità di grassi nel sangue se faccio una dieta chetogenica è normale avere i trigliceridi alti il colesterolo sappiamo che è importante avere le LDL basse ma Simo se ho le HDL alte va bene lo stesso gli steroidi anabolizzanti distruggono il colesterolo cioè proprio la prima cosa che portano alla dislipidemia i trigliceridi si alzano ma non troppo invece si alzano le LDL e ho visto valori di HDL veramente nella mia vita imbarazzanti c'è qualcuno che mi ha detto Simo io avevo le HDL a 0 veramente 0 che 0 è qualcosa di pazzesco io personalmente il livello più basso che ho visto è 8 ma sotto i 40 è già un valore basso ok generalmente in chi fa uso di queste sostanze siamo tra i 20 e i 25 massimo 30 ecco poi dipende sempre dalla durata dell'utilizzo e dalla quantità allora intanto quando vediamo LDL-C o HDL-C la C sta per colesterol sono comunque tutti preditori del rischio di malattie cardiovascolari ma le ricerche più recenti ci indicano che la A poliproteina B Apo B e la Apo A1 A poliproteina A1 sono marcatori più efficaci dei lipidi plasmatici per la diagnosi e il trattamento dell'aterosclerosi quindi per guidare il trattamento delle dislipoproteine mie aterogene atero che causano l'aterosclerosi quindi il valore un po' più importante è questo rapporto Apo B Apo A1 che rappresenta l'equilibrio tra proteine pro-aterogene e anti-aterogene quindi deve essere molto basso quindi le Apo B cattive pro-aterogene pro a favore della genesi di aterosclerosi e invece le Apo A1 anti-aterogene contrastano l'insorgenza di aterosclerosi e Massimo ci sono tantissimi altri esami che bisogna fare il DEA l'insulina il progesterone sì è vero ma quelli che abbiamo visto oggi sono i più importanti ce n'è altri ma certo potremmo andare avanti una vita questo video dura già 80 ore potremmo parlarne 4 anni degli esami più importanti ma cerchiamo di andare al sodo già sono stato troppo lungo nello spiegare alcuni dettagli che spero ti possano essere serviti e allora bando alle ciance tagliamo corto esami del sangue importantissimi farli soprattutto se per caso sei venuto a contatto con determinate sostanze che conosciamo bene steroidi anabolizzanti ma anche SARMS peptidi fatti controllare tieni tutto sotto controllo se il tuo medico non te li fa fare amici una volta nella vita lo so che costa facciamoceli fare privatamente lo so che costa lo so che mi state mandando tutte le madonne del caso però è importante è importante forse la salute è un po' più importante dei soldi c'è chi diceva la salute senza soldi è una mezza malattia e qui la scelta a ognuno di noi bene spero che questi consigli possano esserti stati utili rimango sempre a disposizione se vieni sul gruppo telegram e mi chiedi queste cose generalmente rispondo generalmente ci siamo quando sbatti ma generalmente sbatti ricordati che parlando di sbatti è troppo sbatti iscriverti al canale cliccare la campanella mettere like tutto troppo sbatti lascia stare ma seguimi abbiamo detto dappertutto che è in provincia di ovunque su instagram facebook e tiktok vieni poi sul gruppo telegram dove parliamo anche di tutti questi parametri ematici importantissimi da far controllare e allora noi ci vediamo al prossimo lunghissimo interminabile ma entusiasmante e anabolico video saluti grazie a tutti